Il Chieti Il Chieti Il Chieti Il Chieti Il Chieti Il Roma City avrebbe occasione ghiotta per pareggiare con Di Renzo che si gira bene, meno la conclusione in porta. Protesta l'attaccante per una sospetta trattenuta al momento del tiro. Nel finale l'arrembaggio arancio-blu non porta pericoli. Al triplice fischio seconda gioia consecutiva per il Chieti dopo il successo sull'Aquila, festeggiata sotto lo spicchio di tribuna riservato ai sostenitori di Fede Neroverde. Domenica prossima un altro soduro quando all'Angelini arriverà la Vigor Senigallia.